Nuova strage di migranti nel mare Egeo. Un gommone carico di uomini, donne e bambini è affondato a largo delle coste dell'isola di Lesbo. Secondo le autorità greche, nel naufragio sono morte 16 persone, tra cui due minori ed altre sono considerate disperse. I corpi di nove vittime, delle quali non è stata resa nota la nazionalità, sono stati recuperati nelle acque greche, mentre per altri sette il recupero è avvenuto in acque turche. Solo due i superstiti, una delle quali è una donna incinta, che hanno raccontato di essere partiti in 25 dalle coste turche in direzione di Lesbo. Dopo il controverso accordo siglato nel marzo del 2016 tra la Turchia e i paesi dell'Unione Europea, gli arrivi in Grecia dalle coste turche si sono ridotti ad una media quotidiana di poche decine di migranti.